avevano sparato in corso venezia d'asti ferendo un uomo che stava uscendo da un noto circolo culturale un conflitto a fuoco avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 maggio scorso che ha visto protagoniste bande rivali di origine albanese impegnate nella gestione del traffico di droghe della prostituzione un regolamento di conti secondo la polizia che ha arrestato gli autori due albanesi appunto la squadra mobile della questura di asti dopo un prolungato servizio di osservazione e appostamenti che ha permesso di seguire i movimenti dei sospettati ha individuato i due albanesi nell'abitazione di un loro connazionale nella notte il blitz che ha portato al loro arresto l'accusa nei confronti dei due uomini è di tentato omicidio in concorso e di illecita detenzione di armi